allora vediamo quanto mi conosci alexa chi è gemi tides secondo wikipedia gemi tides pseudonimo di davide de luca è un rapper e produttore discografico italiano ritenuto uno dei principali esponenti dell'hip hop italiano ha esordito mettendosi in mostra nella scena underground di roma va bene alexa stop alexa cosa non finisce mai purtroppo non trovo la risposta alla domanda il veleno non finisce mai alexa segui gemi tides su amazon music ora segui gemi tides bene